Simone uno dei tecnici della polisportiva Canevari ti occupi di calciatori in erba innanzitutto che emozione è vederli crescere? Allora sono molto soddisfatto della crescita dei ragazzi da settembre ad oggi molti di questi non hanno mai giocato a calcio non hanno mai giocato a calcio hanno fatto una crescita esponenziale incredibile per i genitori che li vedono i parenti e tra loro stessi già si vedono grossi miglioramenti la società è molto contenta. Cosa li fate fare in campo? Allora io facciamo solo futsal quindi esercitazioni riscaldamento esercitazioni due contro due possessi palla tanta tattica perché comunque è uno sport completamente diverso non è calcio 7 nel calcio 11 quindi un'arte partita è la tema, tiro in porto uno contro uno, diamo una serie di allenamenti, una bella tabella di marcia che stiamo portando avanti con dignità e siamo molto fieri tutti. A livello personale invece che emozione è? Insomma te lo saresti mai immaginato di diventare tecnico del futsal? Ce l'avevi già in mente? È una cosa che ti ha colpito e cosa ti rimane alla fine di ogni allenamento? Allora non me lo sarei mai aspettato perché ho avuto una piccola esperienza con l'Albaro, con gli esordienti ma come aiuto mister è arrivata la richiesta del presidente e sono molto soddisfatto, non mi sarei mai aspettato di allenare la futsal e spero di continuare nei prossimi anni in questa crescita esponenziale che ha questa società ambiziosa. Grazie. Grazie.